Oggi ho un impegno qui a Roma che mi impediva di essere fisicamente presente a Milano, ma spero che il programma dia un po' la sensazione quasi di presenza. Buongiorno a tutti di nuovo. Ho annunciato che la strategia di Cispo Italia avrebbe avuto tre pilastri fondamentali, tre priorità fondamentali. Trovare una sinergia fra produttività e risultati da una parte è possibile con un nuovo modello di lavoro, trovare in realtà quasi 60.000 persone negli ultimi 12 mesi, per cui in grosso modo nel 2021. Mi piace ricordare l'ultima Networking Academy nuova che abbiamo aperto, si chiama T-Station, l'abbiamo aperta in collaborazione con il partner Genfo. Ora sono solo un paio di esempi di quello che stiamo portando avanti per le persone e le comunità, ma ora voglio passare alla trasformazione che stiamo coppendo verso soluzioni sempre di più basate sul cloud e sul software. E anche in Italia tutte le soluzioni cloud e software stanno andando molto bene. Ora, non solo, stiamo lavorando con molti clienti, in particolare clienti del settore finanziario, per integrare WebEx e la piattaforma WebEx nelle loro applicazioni mobili. Quindi, innanzitutto, la prima cosa da fare è lavorare su noi stessi. E noi abbiamo annunciato che saremo un'azienda, un'organizzazione a livello mondiale e sono sempre più installati su una serie di prodotti nuovi. Bene, noi lavoriamo con i clienti, in particolare del settore utility e manufatturiero, per consentire loro, da una parte, di essere più efficienti nelle loro attività produttive, sistemi produttivi sempre più basati su modelli di economia circolare e sull'infatto ambientale di loro, dei quali i miei colleghi parleranno tra pochissimo. Bene, noi vorremmo avere un ruolo importante nell'ambito di questa evoluzione, dove le nostre persone possono incontrare persone di altre organizzazioni e sviluppare nuove relazioni e nuove collaborazioni. Rimarrò collegato con voi, anche perché ci sarà una sessione di domande e risposte alla fine e ti restituisco la parola. Grazie. Grazie. Grazie.